Fronte compatto, le associazioni degli esercenti di nuovo sul piede di guerra, l'oggetto del contendere, il piano di risienamento acustico, ovvero le regole per combattere i rumori della Movida nella zona di Piazza Muzzi. Un provvedimento giudicato fortemente lesivo per la categoria. Ben 10 le osservazioni inviate all'amministrazione comunale da Confartigianato Imprese, CNA, Confcommercio e Confesercenti. Fabrizio Vianale, direttore generale di Confartigianato Pescara. Fabrizio Vianale, il piano antirumori del Comune non vi soddisfa. Quali sono i punti che contestate? Abbiamo fatto 10 osservazioni. Le più importanti sono sicuramente la possibilità a quelle attività di creare micro eventi culturali, musicali nei periodi estivi, nel periodo natalizio, cosa che non è stata fatta, diciamo come abbiamo visto, e i cui effetti purtroppo nel centro di Pescara sono visibili. Abbiamo poi precisato che eventuali misure sui limiti dimensionali dell'attività non devono assolutamente riguardare le attività che esistono già perché a loro deve essere data l'opportunità eventualmente di vendere l'azienda o il ramo d'azienda, cosa che invece era messo a rischio perché se si incide su certe caratteristiche che deve avere il locale. Poi abbiamo chiesto l'abrogazione di alcune misure cervellotiche che prevedevano ad esempio il munirsi di addetti al controllo delle procedure antirumore, ma sono mansioni non previste dal contratto collettivo del turismo. Quindi abbiamo cercato di agire per migliorarlo, anche specificando per esempio l'esperimentazione dei telefonassorbenti su cui alcune città sono andate avanti, che deve essere ovviamente a spese del Comune e che avrebbe una misura importante sull'impatto acustico. Le zone nevralgiche della città dove ci si divertiva sono sempre più deserte? Ahimè, su questo dobbiamo lavorare per far tornare Pescara al centro di tutto perché siamo sotto attacco dei territori vicini. Una sorta di diaspora insomma. I giovani di Pescara vanno altrove per divertirsi la sera? Ecco, molti imprenditori, visto l'incertezza di alcune misure, hanno preferito intraprendere nelle città vicine. Alcuni invece hanno deciso di non fare serate per il timore e l'incertezza delle misure che contengono e che sono contenute in questo piano. Vexata questo, contemperare le esigenze degli uni e degli altri esercenti e residenti. Come si fa? Anche attraverso un patto di buonsenso che prevederà delle deroghe, dei giorni. Noi la nostra proposta l'abbiamo già fatta e quindi aspettiamo un passo indietro anche dei residenti che devono sapere che la presenza di attività migliora anche la sicurezza di quel luogo. Non ci dimentichiamo che una zona senza attività, una zona senza luci, è una zona che porta delinquenza.